Il treno suburbano S5-23089, di Trenord, proveniente da Varese, è diretto a Treviglio, delle ore 0, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Pozzuolo-Mertesana, Trecella, Cassano-Dadda. Il treno Regio Express, 26-41, di Trenord, proveniente da Milano Centrale, è diretto a Bergamo, delle ore 0 e 05, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Pozzuolo-Mertesana. Il treno regionale, 10-7-1-2, di Trenord, proveniente da Brescia, è diretto a Milano Greco-Pirelli, delle ore 05 e 042, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Vignate, Pioltello-Limito, Milano-Lambrate. Il treno suburbano S5-23-004, di Trenord, proveniente da Treviglio, è diretto a Varese, delle ore 05 e 059, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno suburbano S5-23-001, di Trenord, proveniente da Milano-Certosa, è diretto a Treviglio, delle ore 06, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Pozzuolo-Mertesana, Trecella, Cassano-Dadda. Il treno suburbano S6-10606, di Trenord, proveniente da Treviglio, è diretto a Novara, delle ore 07 e 14, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno suburbano S6-10603, di Trenord, proveniente da Novara, è diretto a Treviglio, delle ore 07 e 15, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno suburbano S5-23-009, di Trenord, proveniente da Gallarate, è diretto a Treviglio, delle ore 07 e 30, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno suburbano S5-2308-2, di Trenord, proveniente da Treviglio, è diretto a Gallarate, delle ore 21 e 29, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni.